Mister Sanzovini, quanto è importante questa vittoria di oggi qui sul campo della Delfino Curi? Fondamentale perché qui ci hanno fatto punti di poche squadre, ha ragion veduta perché è una squadra difficilissima da affrontare, ben allenata, squadra esperta per la categoria, anche se esperta non tanto per l'età dei giocatori ma per il modo di interpretare questa categoria. Loro soprattutto qui in casa mettono in difficoltà tutti e io credo che oggi sia stata un'ottima prova di maturità dei miei ragazzi. Ci credete tanto in questa salvezza? Ci dobbiamo credere fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Mister Bonati, quanto fa rabbia perdere una partita così dopo le occasioni che non avete concretizzato? Vabbè ci sta, a volte nel calcio capita che fai tanto e non segni, in alcune partite magari si è fatto meno e si è comunque vinto. Quindi a tre giornate alla fine la classifica ti dà quello che meriti e abbiamo la possibilità nelle ultime tre di migliorarla, sicuramente non di peggiorarla. Per cui mi sento solo di fare un ringraziamento ai ragazzi per la grande prestazione di oggi, al Presidente e al di là di tutto resterà quello che abbiamo fatto quest'anno e quello che abbiamo fatto negli anni passati. Sicuramente adesso dobbiamo cercare di definire il campionato nella maniera più giusta possibile, però la testa è ovviamente di qualcuno e già altrove. E quindi ecco, stavolta sarà un po' più difficile magari ripartire perché ci vorrà uno sforzo da parte della società diverso in un campionato che veramente ci ha visto fare più del massimo. Quindi grazie veramente a tutti.